Bella capi, clip velocissima, per ricordarvi che da un paio di settimane, poco più, sono diventato partner del tracker di Airsten, quello che vedete che ho sempre usato, siete in Pillader che ora su Battlegrounds con le percentuali dopo i fight, durante e dopo i fight, a sinistra il numero delle partite fatte con le MMR e tutto, è completamente gratis, se volete supportarmi scaricandolo col mio link, col mio codice creatore, ormai si chiama nowadays, trovate il link in descrizione di tutti i video del tracker, completamente gratis, basta installarlo e aprirlo e fa tutto in automatico, esattamente come lo vedete in live, quindi se volete darci un occhio, mi fate un grosso favore, vi lascio il video capi. Peccato. Cos'è Goros has arrived? Goros Launch is official Instagram, ma cos'è una marca di... Bella Fiscia, grazie dei... dell'anno, dei 12 mesi, eh... Cos'è che fa meno merda? Drago o... Mi fa tutto cagare qua... Forse Drago... Sto meno 120 e... Merda vecchio... Ma tutto perché ho perso quel fight là... Dal putri sai da caso completamente, merda... Altrimenti non ero neanche sotto cap... Merda... C'era il tipo lì che aveva i draghi che era veramente enorme, zi, ma che aveva trovato? Però potrebbero mettere che sconti, badi di 4 se vinci, 3 pari, 2 se perdi, sarebbe più bello forse... Vuoi dici che è troppo rotto dopo il vincere e conta troppo nei primi turni? Probabilmente dopo chi vince i primi 3-4 turni è troppo avvantaggiato... Oggi pomeriggio, se riesco, pian piano monto tutta la postazione, domani metterò il canestro là... Con una cam che dà sul canestro, appunto... Tipo metà schermo da rasso di me, metà sul canestro, che ogni tanto switcha la schermata tra una lobby e l'altra, facendo due tiri a caso... E via, non lo so Barney, non lo so... Ma viene a piovere oggi? Cazzo... Cosa... Su cosa la faccio la spella? Posso venirti a trovare? Boh, chissà, magari... Ti porto la pizza... Di solito ti porto dell'erba, però Barney porto la pizza... Bella Stefano, grazie di tutti... Barney, Barney ti giuro che è il mio eroe, zio... Cos'è che scrivono nel gruppo della Kaizo, zio? Dei paperong qui... Dei pazzi, brother... Va, va, Dark... Tear up spell, vero che dite? Se ci stanno... Merda, pisciacane... No, per fortuna... Cioè, tu scherzi, ma per fortuna io sul MacBook ai tempi tenevo la cover dei... Ce l'ho tuttora in realtà... La cover trasparente da mettere sopra la tastiera, no? Altrimenti erano bestemme, zio... Cioè, in quel MacBook lì... Sai cosa vuol dire? Che c'è la mia vita intera... In quel MacBook lì c'è la mia... C'è letteralmente la mia vita intera... Penso che... È uno dei miei incubi peggiori... Cioè, se... Se perdo quel MacBook o succede qualcosa a quel MacBook... Io penso che mi potrei tagliare un braccio, zio... Non per dire, ma... Merda, che schifo sta roba... Sta roba è veramente oscena, eh... Cazzo... Taverna 3... Eh, sì... Chiaro... Capo, hai visto che stasera Axel presenta la sua azienda lotta? Magari la proverò... Magari la proviamo poi in next days... Ma provare non vuol dire che uno si metta a fare quella fisso... Però... Perché non provare? Grazie, paperonghe delle cinque... Minchia, ma ragazzi... Ma si comincia il mese bene? Grande... Dark... Ciao, bro... Grazie il follow... Punto esclamativo Telegram... Se volete entrare nel gruppo Telegram... Alexa... Ma c'è, ma questa è una Taverna 4, zio... Porca troia, che merda... Senza sabo e contiene... Capitolo, dai, i soldi delle azze... Guardando le azze... E poi... Le gift è un pazzo, bro... È un paperong... Perciò... Fermo... Lo... Cazzo bro Questa roba è forte Porca troia Però ti dico Questa roba è oscena Tipo C'è questo Puttana che sbocco Lo prendi ma non è buono C'è questo C'è questo C'è questo C'è questo Prendo Tracotanz A vendere 1-1 ci stava Poi non mi è neanche dato brand Cazzo Vincere vinco Prendere Tracotanz Ovviamente C'è questo C'è questo C'è questo Pobre fra Imbarassing sta roba Va bene Spero di non prenderne Più di 10 qua Questa roba è buona C'è questa roba è buona C'è questa roba è buona C'è due silvets Il top sarebbe Prenderne 10 E andare contro il morto Quello sarebbe Passesco Brother Bella 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 Ns Ben entrato nel telegram Nsx Si sa Si sa chi Si sa chi sia Si sa chi sia Si sa chi sia Si sa chi sia Si non è male Vinci Vinci Perché c'è il deflecto Che ho pibro Merda il paperong Bro che ne ha droppate 5 subito Pazzia 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 Brother Bro Via Armare Yuji Che palle Zaa Pfff Questo è Yuji Lui fa schifo Via E' bellissima Nananananana Lo so che ho schifato Deflecto Però non mi andava Di prendere il secondo Non è che Non l'ho visto Con me Semplicemente Non era da prendere Se non perdiamo Sto fight qua Vinco la lobby Punto Devo smettere Di dire Vinco la lobby Non penso Di Più che altro Non ho una build Buona Cioè non ho L'inizio Di una build Buona Poi sto fight Qua ne prendo 15 Quindi Faticissima Si Si Cote La Vito Mi sa che Aspetterai Per un bel Po Barney Non ditelo Al Musampa Che si dice Sono sempre protetta Come la regina Potrebbe impazzire Insomma Che palle Questa qua Enorme Are we fucking dead Sto game No non lo so Però non Cioè bofa Non abbiamo Una via Devo prendere Goldrin E Switcher Best E provare Non è che vedo Molte opzioni Che è mai buona Sta roba Ok Si è in game Si è in game Si è in game Si è in game Allora So Baddy 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 Eh 2-8 Si Non lo devo prendere Dai So fucking Gridi Però Tenere 2-8 Su Non lo so 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 Devo dare ragione Al Barniantibus Via 2-8 Lì Ha fatto la tella Il Barniante Ragazzi Spiace Stai zitta Mi hai rotto Il cazzo Che switch Che abbiamo fatto Sto turno Sto turno Capi Anche il discoverer best Che mi ha dato Altro gold Overmack E' stato Insane E' stato Yuge E' stato Pazzesco No Vero Just No Che mi ha dato Che mi ha dato In testa Oh come Le balinesi Nei giorni Di festa Voglio vederti Danzare Al suono Di Cavaliere Merda Barni onesti E se erai rimasto Max to game Avrei fatto Ottavo Merda Barni di onestà Bro Puttana Che sei un uomo Rinato Barni Posso dire Da quando hai cominciato A giocare a Battlegrounds Sei un uomo Rinato Proprio Sei un uomo Rinato Bro Sei diventato Molto maturo Sei di insegnamento Per i ragazzi Te invece sei rimasto Incoglionito Palazzi Mancoglionito Oh come Grazie a tutti Che palle volevo ritrovare Il tipo lì che evocava Che coglioni Si potevo dare Reborn a Macau Anche l'ho dato a loro Era da dare a Macau uno dei due Che Macau non è detto che muoia La prima hit il discorso è quello Perché si buffa dal Goldring Quindi si può rimanere vivo Cioè è più utile su di loro Però ci sta a darlo a Macau Ma contro cosa sono Robot Dopo lo do a Macau Lo do a Macau e lo do anche a lui Poi gioco Barone al suo posto E chiedo sul Voglio dare Reborn a lui Reborn a lui Giocare Barone E giocare il cavallo Che abbiamo venduto ora È vero che rischierà 3-4 Ma sti cazzi Qua sarebbe rinato il cosa Mi serve Barone È molto importante trovare Barone Eh sì Vediamo Chiaramente non vogliamo triplare l'amalgama Questa è ovvio Le vogliamo giocare separate Se anche troviamo la tripla di amalgama La schippiamo probabilmente Grazie a tutti È buono Secondo me no No I don't think it's good Cioè è molto più forte Trovo Barone All right Oh Per ora è lì perché non abbiamo trovato il Barone Better than nothing No Oh sta roba la dovrei disintegrare Zio Cioè se avessi la build fatta bene La Capron è uguale a prima No un bidone ora Perché non funziona più né con Barone Né con Macao Quindi è un cesso Prima era forte perché proccava Perché buffava con i Baroni Macao Ora non funziona più con quelli Fals Ferrari Questo va il bar Pretty good There's a top two È buona questa Si mi può dare Reborn Merda ragazzi Che roba Cioè ma è assurda sta cosa Fra Cioè ma è assurda sta cosa fra Mi ha dato Fanno invitation o altro Se il weekend scorso ce n'era uno Per dire Comunque adesso stiamo organizzando Un bel torneo per la community italiana Io turno Dovete avere pazienza Perché stiamo sentendo anche Blizzard Stiamo sentendo varie Robe per fare una roba fatta bene Tic toc Tic toc Ha fatto il grado leggenda Da un tic toc Si sono sentito anche il Santi Ovviamente bro ma ci mancherebbe altro Il grandissimo Santi Merda Che tempi cazzo I tempi del Santi era Clamorosi Ma raga Ciupo fa merda Sta board Cioè Vabbè Non so perché state argomentando Del ciupo È un cesso Dio cazzo Procasse con Macao Che darebbe Più infinito Più infinito A turno Sarebbe rottissimo Così è un cesso Cazzo Merda Non c'è neanche stato bisogno di barone nulla Abbiamo fatto un bello switch a bestie Vinta Easy Shake Asc Grazie a tutti